Se non moriremo di covid, moriremo di fame. È questo il grido d'allarme lanciato dal presidente degli ambulanti toscani della FIVA Confcommercio, Rodolfo Raffaelli, che nel farsi portavoce della propria categoria si è detto pronto a scendere in piazza per occupare simbolicamente gli stalli dei mercati rimasti vuoti da troppo tempo. Fiere e sagre sono chiusi da un anno in tutta Italia. I mercati settimanali e di quartieri in zona rossa sono aperti solo per l'alimentari. Non ce la facciamo più a tirare avanti. Chiediamo, prosegue Raffaelli, alle istituzioni, alla regione, prima di tutto poi al governo, di riaprire i mercati in toto anche per la parte non alimentare, indipendentemente dalla classificazione delle aree. I mercati si svolgono all'aria aperta e adottano le misure utili al contenimento del contagio, in calza Franco Marinoni. Insomma, fare la spesa al mercato è molto meno pericoloso che entrare in un supermercato oppure prendere un mezzo pubblico per spostarsi. Siamo rimasti a stringere i denti in silenzio per tanto tempo nel rispetto di chi in questa pandemia ha perso la vita e gli affetti, poi per non causare alcun problema di ordine pubblico. Prosegue Tatiana Limambro, ambulante che siede nel consiglio direttivo di Fivacomf Commercio Toscana. Ma adesso la misura è colma. Anche noi, come colleghi di altri settori, diciamo basta con la forza della disperazione. pretendiamo più attenzione e risposte. Insomma, sul futuro del commercio ambulante grava una pesantissima condanna morte, così come la definisce il presidente di Fivacomf Commercio, Raffaelli, che si chiede ma a chi giova a far sparire fiere e mercati? Le istituzioni, conclude, dovranno rispondere anche loro perché se gli ambulanti scompaiono, scompare anche l'ultimo presidio dei tanti piccoli centri.